Tutorial Wall Facing and Stand Push Up Esercizio propedeutico per lo sviluppo dei push up in verticale utile a rinforzare spalle e braccia Partire poggiando le mani al suolo distanti dal muro circa 40 cm ampiezza poco più delle spalle dita aperte rivolte verso l'esterno arrampicarsi di pancia al muro con gli avampiedi partire con braccia distesa al massimo cercando di allineare il tronco alle gambe testa dentro le spalle flettere i gomiti fino a sfiorare con la fronte, il suolo e ripetere mantenere addome e glute contratti aiutarsi con i piedi per risalire in caso di affaticamento ispirare durante la fase discendente ed ispirare nella fase di risalita infine eseguire una sorta di ruota laterale per uscire dall'esercizio avanzando con le mani